Ciao mitici, tramonto arriva bella No, non indugiamo ragazzi, il momento magico dura poco Guardate qua, guardate quel tramonto Lo tengo in mano, lo tengo in mano Non c'ho il cavalletto, ma guardate che è Un disco di fuoco, compresso tra mare e nuvole No, ragazzi Lo sapete che è l'unico momento del giorno in cui si può guardare il sole Perché se guarda il sole, puoi diventare cieco Se lo guardi direttamente in pochi minuti Invece in questo unico momento del giorno In cui si tuffa nel mare Allora ti puoi permettere di guardare il sole direttamente E ti carica di energia Alessandro, guarda il sole Alessandro, guarda il sole, Fisto E ricarica di energia No, ragazzi, che spettacolo Allora, diciamo, di la location, Alessandro 133 coerente Allora, dove ci troviamo? Riva Bella Siamo a un po' 78 km da Gallipoli Allora, qui ci stanno gli scogli Poi qui c'è una spiaggia Parcheggio facile Ombra dei pini direttamente I barrettini dove si mangia bene Poi c'è una piglietta interna Dove ci stanno le possibilità di avere le rossiccerie E altri negozi Quindi direttamente vicino al mare Molti altri servizi E poi da quest'altra parte Laggiù in fondo c'è l'idro delle conchiglie C'è una spiaggia che noi Non l'abbiamo camminata ancora Però su Google Map Ci dà l'idea di essere due chilometri di spiaggia Di spiaggia piena di stabilimenti Tipo una decina di stabilimenti Uno dopo l'altro Quindi in posto strategico Vai Inquadro l'ultimo pezzo del sole Guarda Levate Levate Che me stai Me stai impallando il sole L'ultimi secondi No No Che magia Gli ultimi secondi del sole Guardate come si vede Che magia Ok Abbiamo provato a pescare Non abbiamo preso niente Però ci abbiamo provato Ok Salute Alessandro Ciao ragazzi Ciao ci vediamo al prossimo video